Politica, scaduto il termine Candidature per il Consiglio di Amministrazione della Team Il sindaco Brucchi dovrà scegliere tra 39 aspiranti Carcere di Castronio a Teramo Agente in servizio positivo al test della tubercolosi Protesta il sindacato Sappe Ruzzo, i sindacati difendono i dipendenti e attaccano l'Api Dove eravate prima? Ambiente, per dire no a Umbrina Mare scendono in campo i grillini Ma anche la regione fa ricorso Estate tranquilla e alta la Guardia delle Forze dell'Ordine Sulle strade, controlli e multe Tasse e rifiuti a Giulianova Latari si pagherà in tre rate Da settembre fino al gennaio 2015 E per lo sport e calcio il Teramo pronto per l'amichevole contro il Torino Intanto prende buon aiuto e tonti Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Teleponte È scaduto ieri il termine per la presentazione delle candidature al Consiglio di Amministrazione della Teramo Ambiente, la Team Ci sono 39 pretendenti per la Presidenza e il Consiglio e 19 per il Collegio dei Revisori Tra questi il sindaco di Teramo, Brucchi, dovrà scegliere superando anche le frizioni interne alla maggioranza Ma lui garantisce che la presidenza della Team sarà una nomina tecnica il servizio Andare in ferie con tutti gli incarichi assegnati E questo è lo scopo del sindaco Brucchi Che di ritorno dal Memmingen affronterà la prossima settimana l'ultimo nodo della nuova giunta La Presidenza Team Sul tavolo ci sono i nomi di 39 aspiranti manager per il vertice del Consiglio di Amministrazione E 19 per tre posti di Revisore dei Conti La corsa è aperta? No, il sindaco sostiene che la nomina sarà condivisa con le forze politiche Ma ancor più fermamente asserisce che tendenzialmente sarà più tecnica che politica Soprattutto perché la termoambiente dei prossimi mesi sarà chiamata a gestire quel passaggio Verso il nuovo modello indicato dal Premier Renzi di privatizzazione nelle partecipate Ancora da definire E ancor più per questo la politica ne dovrà restare fuori Sarà però difficile pensare a un diverso orientamento delle fazioni politiche interne alla maggioranza Vedi lista civica vicina a Mauro di Dalmazio Circa il dovuto riscontro politico al risultato elettorale in termini di posti Ma anche qui il sindaco dalla Germania si affretta a smentire qual si voglia contrasto o accesso agli atti che si voglia chiamare Chiunque all'interno o all'esterno della maggioranza ha spiegato Vuole seminare zizzania nella mia squadra ha sbagliato via, numero e casa Perché sarebbero gli elettori Chi ci ha votato a bocciare questo atteggiamento? Nella mia maggioranza, ha concluso Brucchi Chi antepone la propria persona agli interessi della città Non solo cozza con la mia impostazione, ma è fuori da tutto Dunque, nomina del CDA, della termoambiente, ma anche con clave di maggioranza Sono due appuntamenti che il sindaco Brucchi ha in agenda per la prossima settimana La riunione non sarà quella classica, ma ridotta nel tempo e nello spazio Si terrà molto probabilmente martedì sera E sarà di fatto una riunione di maggioranza più lunga, piuttosto che un ritiro spiritual-politico E coincidenza vuole che il governo della città si ritroverà ad un tavolo Nel giorno in cui la città avrà perso la sua banca Ma questo è altro capitolo e altra incongruenza cittadina Un agente di polizia penitenziaria in servizio al carcere di Castrogno di Teramo Sarebbe risultato positivo al test della tubercolosi Ne ha dato notizia il sindacato Sappe che protesta Sentiamo Un agente di polizia penitenziaria del carcere di Castrogno a Teramo Sarebbe risultato positivo al test della tubercolosi Il cosiddetto TST, tubercolin skin test Ne dà notizia il sindacato più rappresentativo del corpo, il Sappe Che sottolinea come il sospetto che non fossero state adottate le necessarie cautele Per la salvaguardia dell'incolumità degli operatori penitenziari fosse all'epoca fondato Secondo il segretario provinciale del Sappe, Giuseppe Pallini A tutt'oggi la direzione del penitenziario non ha mai dato risposte Nonostante le denunce del sindacato sulla positività di un detenuto Da quanto si è preso da fonti interne al penitenziario Teramano Il personale di custodia e quello di assistenza sanitaria Che non fosse già stato vaccinato per la TBC È stato sottoposto a screening presso il Dipartimento di Igiene e Prevenzione della Asla di Teramo In seguito alla scoperta, circa un mese e mezzo fa Di un detenuto affetto dalla malattia, che poi è stato trasferito Il test è stato eseguito su un certo numero di persone Che aveva avuto contatti, per ragione del loro servizio, con il detenuto Ci auguriamo che sia solo un caso isolato, ha detto Pallini E che il restante personale, oltre 100 unità Tra poliziotti e operatori sanitari e del trattamento Che hanno avuto contatti nel tempo con il detenuto infetto Siano negativi al test Altrimenti ci troveremmo di fronte ad un'epidemia Di portata catastrofica A Teramo arrestato per maltrattamenti in famiglia E rimesso in libertà in attesa di giudizio L'uomo, un 61enne, Teramano Minacciava e insultava la figlia convivente La moglie invalida, per la quale percepiva anche l'accompagnamento Il pensionato era stato arrestato la notte scorsa Dai carabinieri di Teramo Con l'accusa di maltrattamenti in famiglia Questa mattina è comparso davanti al giudice Che ha convalidato l'arresto rimettendolo in libertà L'uomo, che è tornato nella stessa casa Dalla quale era stato prelevato dai carabinieri Era stato già denunciato precedentemente dalla figlia Ma nonostante ciò continuava a vessare i familiari Una bruttissima esperienza nata da una semplice perdita dell'orientamento Quella che la scorsa notte ha vissuto un 46enne modenese Che è partito intorno alle 13 di ieri dai prati di Tivo Avrebbe dovuto percorrere l'anello escursionistico Che procede lungo la Valmaone Il rifugio Garibaldi La via normale di Corno Grande Fino alla conca degli invalidi Per poi continuare verso sella dei due corni Fino al rifugio Franchetti E riscendere così ai prati di Tivo Nel tratto intermedio La cattiva comprensione della segnaletica Tracciata lungo il sentiero Lo ha indotto a cambiare più volte itinerario Sopraggiunta la notte Una serie di salti di roccia ne hanno impedito il cammino Al punto da indurre l'uomo a fermarsi Ad allertare i soccorsi Non riuscendo a mettersi in contatto con il 118 Ha preventivamente chiamato un amico Che a sua volta ha lanciato l'allarme I tecnici del soccorso alpino Intervenuti sia dal versante Teramano del Gran Sasso Che da quello Aquilano Hanno avuto non poche difficoltà a rintracciarne la posizione Essendo in una zona impervia In prossimità del passo del cannone a 2700 metri di altitudine Perché aveva il telefono scarico E' stato infine individuato a voce e raggiunto Era spaventato e stanco Ma in buone condizioni di salute Dopo il pernottamento al rifugio Franchetti E' stato ricondotto a valle I sindacati CGL, Cisle, Will e la RSU La rappresentanza sindacale notaria del Ruzzo Difendono i dipendenti dell'azienda acquedottistica E attaccano l'API L'associazione piccola e media industria della provincia di Teramo Ora il Ruzzo, dicono, è un carrozzone inutile e costoso Dove erano gli imprenditori Quando invece era una mucca da mungere il servizio? Le segreterie territoriali Filct, MCGL, FM, Cacisle, Will, Tech, Will di Teramo Insieme alla rappresentanza sindacale unitaria Della Ruzzo Reti S.P.A. Sentono l'esigenza Di intervenire sull'ennesimo squallido tentativo Dicono in una nota Di buttare la croce delle responsabilità Della grave situazione economico-finanziaria In cui versa da tempo la Ruzzo Reti Sul personale dipendente La Ruzzo Reti è un'azienda storica del territorio Patrimonio di conoscenze e competenze da tutelare Che è ingiusto ed offensivo appellare come inutile carrozzone I toni, decisamente fuori misura Prosegue la nota Usati da parte dei rappresentanti dell'API Se da un lato possono essere compresi come espressione mediatica Delle sollecitazioni cui sono sottoposti Gli organi dell'associazione Dall'altro mostrano un uso strumentale Approssimativo dei fatti Il presidente dell'API, proseguono i sindacati Scopre infatti oggi che la Ruzzo Reti Sarebbe un carrozzone di intoccabili Rammaricandosi di non vedere tagli di personale Oggi auspicabili Da rappresentante di un'associazione Ci aspetteremmo maggiore cautela nelle analisi E coerenza nei comportamenti Ci chiediamo infatti quali interventi ha fatto Il presidente dell'API in precedenza Quando i lavori venivano affidati Con pochi riferimenti alle compatibilità E alle coperture tariffarie Questo sì che ha portato al dissesto dell'azienda Forse allora non si trattava di un carrozzone inutile e costoso Ma di una mucca da mungere I sindacati hanno da sempre rivendicato Una gestione pubblica virtuosa Se oggi questo percorso è iniziato Noi non ci sottraiamo a questo confronto Ma è inaccettabile, dicono ancora i sindacati E la rappresentanza sindacale unitaria Della Ruzzo Reti Che i dipendenti della Ruzzo Debbano rischiare di pagare due volte Lo scotto di questa insostenibile situazione Sia come lavoratori Sia come utenti E di essere additati all'opinione pubblica Come responsabili di una cattiva gestione Di cui non hanno alcuna colpa E che anzi hanno subito Cambiamo argomento Le dichiarazioni di Lanfranco Lancione Ex consigliere comunale a Teramo Di Rifondazione Comunista Pubblicate su Facebook E rese note oggi dal quotidiano Il Centro Stanno creando un'ondata di sdegno Nell'opinione pubblica e tra i partiti politici Lancione in merito al conflitto in corso in Medio Oriente E in merito agli attacchi dell'esercito israeliano Contro i palestinesi della striscia di Gaza Ha pubblicato sul suo profilo Facebook La foto dell'ingresso del campo di concentramento Di Auschwitz Con il commento Riaprire i campi subito Il servizio Ha sollevato un vespaio di polemiche E di prese di posizione L'intervento di Lanfranco Lancione Su Facebook Prese di posizione e polemiche Soprattutto a sinistra Teniamo a precisare Scrive in una nota Maurizio Acerbo Della Segreteria Nazionale di Rifondazione Comunista E la nota è firmata anche da Marco Fars Segretario regionale E da Marco Palermo Segretario provinciale Che l'ex consigliere comunale Lanfranco Lancione Non è iscritto al nostro partito Almeno dal 1998 Quando aderì alla scissione Del partito dei comunisti italiani Di Cossutta e di Liberto Se fossero iscritto a Rifondazione Apriremmo immediatamente una procedura Per l'espulsione Cretinate e orrende Come quelle scritte da Lancione Sulla sua pagina Facebook Non giovano certo alla causa Del popolo palestinese E anzi gettano discredito Sulle mobilitazioni in corso Contro i bombardamenti israeliani E l'assedio di Gaza Ci stupiamo Proseguono nella nota Acerbo Fars e Palermo Che chi milita Da una vita a sinistra Possa inneggiare E giustificare i campi di concentramento E lo sterminio nazista E in merito alle farneticanti E aberranti dichiarazioni rese Da Lanfranco Lancione Che invita a riaprire i lager Per i cittadini ebrei La federazione provinciale di Teramo Del partito dei comunisti italiani Esprime il più totale sdegno E disgusto verso tale vicenda La storia dimostra Che furono proprio i comunisti E nello specifico La gloriosa armata rossa Dell'Unione Sovietica Ricorda la federazione provinciale Del partito dei comunisti italiani Ad aprire i cancelli di Auschwitz E di grossa parte Dei campi di concentramento itleriani Liberando ebrei Prigionieri politici e comunisti Il partito dei comunisti italiani È molto attento A distinguere l'aspetto politico Da quello razziale Condanna senza appello L'aggressione sionista imperiale Del governo israeliano Sostiene il popolo ebraico Da ogni discriminazione E inoltre sostiene fermamente E difende il popolo palestinese Nel suo diritto A resistere all'occupazione E nel chiedere il suo riconoscimento politico E la restituzione Dei suoi territori E adesso ci occupiamo di ambiente Un flash mob lungo le spiagge abruzzesi Il Movimento 5 Stelle Lancia la campagna di aggressione civile Al progetto di petrolizzazione dell'Abruzzo Torna nel mirino Ombrina Mare Come dimostra la recente ennesima richiesta Della Petrol Celtic per Elsa 2 Stiamo assistendo all'assalto ai nostri mari Alla nostra terra L'Abruzzo non può essere trasformato In distretto minerario di idrocarburi Le modifiche normative introdotte dal governo Monti Con la complicità di PD e PDL Salvarono in modo retroattivo Tutti i procedimenti di concessione di ricerca E coltivazione di idrocarburi Antecedenti alla data del 26 agosto 2010 Facendo un favore ai petrolieri E lasciando inascoltate Tutte le stanze territoriali Delle associazioni e comitati delle realtà produttive Di tutti i cittadini Che nel corso del tempo Siano espressi pubblicamente Attraverso numerosissime osservazioni Contro i progetti di petrolizzazione della costa abruzzese Così gli esponenti del Movimento 5 Stelle abruzzese Il nostro no è un no fermo Contro questa operazione che è dell'incredibile Nonostante gli abruzzesi siano scesi sul territorio Più di una volta In più manifestazioni Pare che non abbiano alcuna voce in capitolo Questa è un'operazione scellerata Ce ne sono soltanto due in tutta l'Europa Sono operazioni che negli Stati Uniti E al nord Europa non potrebbero mai essere fatte I danni sotto diversi aspetti Sotto diversi profili Sono terrificanti Abbiamo presentato O presentato personalmente In Regione e al Ministero Sette pagine di obiezioni Contro questa operazione Aiutati da scienziati illustri Operazioni anche di rilievo mediatico Verranno fatte anche domenica mattina Su tutta la costa abruzzese Faremo un flash mob Una catena umana di persone Mano nella mano Per fermare l'avanzata del petrolio in Abruzzo Non siamo noi a ribadire Sono stati gli abruzzesi a dire non Brinamare Che che invece il governo E la maggioranza ne dica Perché a parole Sono tutti quanti bravi a dire Sono tutti i contrari a Brinamare Mentre poi nei fatti La maggioranza Da sottosegretario Legnini A tutto il PD Nei fatti invece si dimostra Che non è così Noi chiediamo una cosa Scriveremo una lettera Al sottosegretario Legnini A tutta la maggioranza del PD Per chiedere di intervenire Dal punto di vista normativo Per bloccare Ombrina Perché l'unica via certa Per bloccare Ombrina È quello di fare appunto Un emendamento Al decreto attualmente In discussione al Senato Che metterebbe fine a questa vicenda E anche la Regione Non è d'accordo Sulla ricerca Degli idrocarburi in mare La Giunta regionale Ha infatti deciso Di ricorrere contro Il progetto Ombrina Mare Sentiamo La Regione Abruzzo Ricorre contro Ombrina Mare Il progetto idrocarburi A largo delle coste Teatine La Giunta ha deliberato Il ricorso per osservazioni Alla procedura di valutazione Di impatto ambientale La via A suo tempo attivata Dal Ministero dell'Ambiente Il 29 luglio Scade il termine Per le osservazioni Il fascicolo della Regione Sarà inviato lunedì prossimo Dopo il completamento Della procedura L'Abruzzo non è E non sarà mai trasformato In un distretto minerario Ha detto l'assessore all'ambiente Mario Mazzocca Come da programma Ha fatto sapere La Regione in una nota In una seduta appositamente Convocata La Giunta regionale D'Abruzzo Ha deliberato il ricorso Per osservazioni Alla procedura Di via nazionale A suo tempo attivata Dal Ministero competente In merito alla piattaforma Ombrina Mare Il voluminoso corpo Dell'osservazione È stato redatto Con il contributo Di tutte le strutture regionali E ha riguardato Diversi aspetti Di compatibilità ambientale Paesaggistica normativa E di incongruenze tecniche Del progetto Che possono concretamente Incidere sull'esito Positivo della procedura Nel senso auspicato Dalla Regione Abruzzo Noi siamo contrari Ha affermato L'assessore regionale All'ambiente Mazzocca Alla ulteriore perforazione Del nostro mare L'Abruzzo non è E non sarà mai trasformato In un distretto minerario Faremo tutto quanto In nostro potere Andandosi del caso Anche oltre Le nostre strette competenze Per difendere Il sistema ambientale abruzzese E il processo di sviluppo Sostenibile Che stiamo riattivando E lo faremo Solo con atti concreti Sia dal punto di vista Amministrativo Che politico Ieri il Presidente Della Regione D'Alfonso Ha fatto visita All'ospedale di Pescara Dobbiamo passare A detto Dai livelli essenziali Ai livelli ottimali Di assistenza Il servizio Riuscire a garantire Ai cittadini abruzzesi Il minimo richiesto Di capacità Di funzionamento Del sistema sanitario E quindi I cosiddetti Livelli essenziali Di assistenza ILEA Obiettivo ormai Alla portata E il passo necessario Per pensare Di arrivare A garantire Anche i livelli Ottimali Di assistenza E questa La sfida Lanciata dal Presidente Della Giunta regionale D'Alfonso Nella sua veste Di neocommissario Per la sanità Ieri D'Alfonso Accompagnato Dall'assessore regionale Alla sanità Silvio Paolucci Dall'assessore al sociale Marinella Sclocco E dai vertici Della ASL pescarese Si è recato in visita All'ospedale Santo Spirito Di Pescara Dove ha puntato L'attenzione principalmente Sui reparti Di ematologia E di oncologia Da dove provenivano Particolari richieste Di attenzione D'ascolto Il reparto Di ematologia Dell'ospedale Di Pescara Diretto dal professor Di Bartolomeo Ha affermato D'Alfonso E' una eccellenza Ed un riferimento Di rilievo Nel panorama nazionale Visto che viene scelto Per le cure Anche da pazienti Di fuori abruzzo Anche alla luce di ciò Il personale medico Mi ha rappresentato Un'esigenza Di potenziamento Di risorse umane E di adeguamento Degli spazi Visto che siamo Nella fase della programmazione Ha aggiunto D'Alfonso Rileveremo tutte queste segnalazioni Anche in ordine Al miglioramento Delle tecnologie E alla razionalizzazione Del personale Nell'ottica Di una migliore offerta Di prestazioni E di civiltà Di cura In particolare Riguardo agli spazi Anche solo passando In mezzo Ai malati Che si sottopongono Alle sedute Di chemioterapia Ha concluso Il presidente D'Alfonso Si ha la sensazione Di essere in una sorta Di Ellis Island Ai tempi Della quarantena Degli emigranti Questo non può E non deve accadere E noi lavoreremo Nel senso Di rimuovere Queste situazioni Di grave disagio Per i pazienti Al via Anche in Abruzzo Il piano europeo Per la youth Guarantee Dopo la pubblicazione Del piano esecutivo Regionale Della convenzione Con il ministero Del lavoro Ne parleranno In un convegno Lunedì prossimo A Teramo L'assessore Alle politiche sociali Marinella Sclocco Il capogruppo regionale Del PD Sandro Mariani Garanzia giovani E la risposta Alla disoccupazione Giovanile Quei ragazzi Non occupati Né in attività Lavorative Né in percorsi Di formazione Per l'Abruzzo Sono a disposizione Oltre 31 milioni Di euro Da dedicare Alla formazione All'accompagnamento Al lavoro L'apprendistato Tirocini E servizio civile E con attenzione All'auto Imprenditorialità Alla mobilità Professionale Transnazionale E bonus occupazionali Per le aziende Che decidono Di assumere I giovani Coinvolti Nel progetto Scadrà il prossimo 15 settembre La prima rata Della Tari A Giulianova Il comune ha deciso Di applicare Tre rate Di pagamento Facendo slittare La terza Quella del saldo Alla fine Di gennaio 2015 Il servizio Arriva anche A Giulianova La Tari Cioè la tassa Istituita Dalla legge 147 Del 27 dicembre 2013 Destinata a finanziare Integralmente I costi Del servizio Di raccolta E smaltimento Rifiuti A carico Dell'utilizzatore Il presupposto Della Tari È il possesso O la detenzione A qualsiasi titolo Di locali O di aree scoperte A qualsiasi uso Adibiti Suscettibili Di produrre Rifiuti urbani Sono escluse Dalla Tari Le aree scoperte Pertinenziali O accessorie A locali tassabili Non operative E le aree comuni Condominali Di cui è l'articolo 1117 Del codice civile Che non siano Detenute O occupate In via esclusiva La giunta comunale Di Giulianova Ha deciso di suddividere Il pagamento Della Tari In tre rate Due di acconto Ognuna pari al 35% E l'ultima di saldo La prima rata Dovrà essere pagata Il 15 settembre prossimo La seconda Il 17 novembre E l'ultima Il 31 gennaio 2015 Abbiamo deciso Di differire Al 31 gennaio Del prossimo anno Il saldo Della Tari E ciò Dichiara l'assessore Al bilancio Del comune Di Giulianova Catia Verdecchia Sia per dare respiro Ai contribuenti Attraverso appunto La divisione In tre rate E sia per evitare L'ingolfamento Con gli altri tributi Dovuti Va infatti ricordato A proseguito Che la prima rata Della Tasi La tassa Sui servizi indivisibili Che sostituisce L'Imu Sulla prima casa Scadrà il 16 ottobre Mentre il pagamento Della seconda rata E' fissato Per il 16 dicembre In coincidenza Con il pagamento Dell'Imu Sulle seconde case Rimangono ancora Da definire Ma lo faremo Da qui a breve Portandole All'attenzione Del consiglio comunale Continua l'assessore Verdecchia Le tariffe Da applicare E' appena il caso Di ricordare Che avevamo Confermato Per l'anno scorso L'applicazione Della Tarsu Proprio per evitare Aumenti consistenti Delle tariffe Prevenire incidenti E garantire maggior sicurezza Sulle strade E' l'obiettivo Dei controlli Che questura Carabinieri E finanza Assieme ad Asle Croce Rossa Perseguono Sulle strade Della provincia Teramana I risultati Non mancano Vediamo E' state tranquilla Parte il piano Della polizia stradale Per prevenire gli incidenti Nell'esodo Verso le località Di vacanze A cominciare Dai controlli Sul consumo di alcol E stupefacenti Da parte di chi Si mette poi Al volante Il collaudato Progetto di controlli Della questura Teramana Condotto in collaborazione Tra Polstrada Carabinieri Guardia di Finanza Con pattuglie In Borghese L'intervento di personale Della ASL E della Croce Rossa Per le verifiche sanitarie E la lettura dei test Ha fatto registrare Un altro servizio Coordinato Da risultati importanti Sulla statale 16 Adriatica E nei centri più importanti Sono stati effettuati 10 posti di controllo Con l'impiego Di 14 pattuglie La verifica di 90 veicoli E l'identificazione Di 122 persone Di queste 94 Sono state sottoposte A verifiche Tra alcol test Precursore Due Sono state denunciate Per guida In stato di ebbrezza E rilevate 6 violazioni amministrative Per lo stesso motivo Sette I documenti ritirati Tra patenti E carte di circolazione Con 22 altre Infrazioni accertate I punti di patente Decurtati Alla fine Sono stati 42 Il piano è operativo Con programmazione Intensificata Per il periodo estivo I controlli Sotto il coordinamento Della prefettura Di Teramo Saranno ripetuti In diverse zone Con posti di controllo Visibili Fino a settembre Si chiama La bici è in porto Ed è il primo progetto Di bike sharing Che mette a disposizione Dei clienti Del porto Della marina Pescarese Il collegamento Con le due ruote Verso la città Il servizio Alvia il bike sharing Al porto turistico Di Pescara Con l'iniziativa La bici è in porto Presentata Dal presidente Della provincia Di Pescara Guerino Testa Dal presidente Del porto turistico Marina di Pescara Riccardo Colazzilli Dall'amministratore delegato Del porto turistico Marina di Pescara Bruno Santori Dall'assessore All'informatica Agricoltura Innovazione Sviluppo Territorio ed energia Angelo Dottavio E dalla vice presidente Di Pescara Bici Laura Di Russo Nonostante il momento Difficile Che sta vivendo La provincia Detto Testa Sono molto soddisfatto Dell'iniziativa Resa possibile Grazie ai fondi comunitari Delle 66 biciclette Acquistate Su mercato elettronico Dalla provincia 20 delle quali Già presenti Nelle due sedi Dell'ente Nel centro di Pescara Da oggi Le restanti 43 Saranno a disposizione Dei clienti Del porto turistico Marina di Pescara Entusiasta del progetto Il presidente Colazzilli Che ha dichiarato Ringrazio il presidente Testa E la provincia di Pescara Per averci donato Le biciclette Che oltre ad essere Un mezzo ecologico Alternativo all'auto Costituiscono Un servizio in più Per i nostri clienti Che potranno Suffruirne in maniera Gratuita Infatti Il servizio di utilizzo Delle bici È rivolto in particolare Ai diportisti Presenti nel Marina Di Pescara È gratuito Ed è all'obiettivo Di diffondere E incentivare L'uso della bicicletta Per gli spostamenti Nella città di Pescara E nel territorio limitrofo Lunedì prossimo 28 luglio Alle 10 e 30 Verrà inaugurato Ad Atri Il mercato stabile Di Campagna Amica Nel contesto Dello storico Mercato cittadino Nella zona Della villa comunale Di Atri Col diretti Di Teramo E Campagna Amica Abruzzo L'inaugurazione Inizialmente prevista Per lunedì 21 Poi rimandata Per il maltempo Parteciperà anche Il sindaco Di Atri Gabriele Astolfi Oltre al presidente Provinciale Di col diretti Teramo Silvana Verdecchia Al direttore provinciale Massimiliano Volpone E al coordinamento Di Campagna Amica Produttori agricoli Provenienti dalla provincia Proporranno in vendita Agli Atriani Prodotti agroalimentari Direttamente coltivati E per i quali Garantiscono la freschezza La genuinità E la qualità Torna in questo weekend Un appuntamento atteso A Corropoli Il Palio delle Botti Il servizio Anche quest'anno Torna la 32esima edizione Del Palio delle Botti Appunto Tante le novità Si partirà il 26 E si finirà il 27 Di luglio Sì E con immenso orgoglio Che come presidente Della associazione Il Palio delle Botti Ci apprestiamo A vivere questo evento Che per Corropoli È un evento Particolarissimo Uno degli appuntamenti Più importanti Per la città di Corropoli Ma per tutta La regione Abruzzo Infatti quest'anno Viviamo la 32esima edizione Con molti sacrifici Anche attuali Vivendo una difficoltà Sociale Un po' particolare Però comunque Grazie all'impegno Dell'associazione Grazie soprattutto All'impegno E qui li voglio ringraziare Il sindaco Danundis E tutta l'amministrazione Di Corropoli Tutta Perché con molto impegno Anche loro Hanno sposato Questa manifestazione Ci danno Un grosso contributo Per la realizzazione Di tutta la manifestazione Quale sarà La contrada Da battere E appunto Il record Da superare Allora Questa è una bella domanda Perché La squadra Attualmente Titolata Del titolo È la contrada Colle-Maiulano Che ha un tempo Di vincita Per il 2013 Di 3-0-0-5-46 Noi ci auguriamo Che questo muro Possa essere abbattuto Dei tre primi In quanto È una cosa possibile Visto le caratteristiche Dei nostri atleti Lunedì sera Alle 21 e 15 Lunedì prossimo La rassegna musica Nei chiostri Organizzata dall'associazione Benedetto Marcello Prosegue a Giulianova Nella stupenda cornice Del cortile del museo Dello splendore Serata all'insegna Di atmosfere spagnole E sudamericane Con il duo di chitarre Di Cesare Tempera Si svolgerà Questa sera Carnevale Anche in estate vale La sfilata Del carnevale estivo Di Pineto Più di 300 iscritti Vari carri allegorici Realizzati da associazioni E privati della città Sfileranno Per le vie di Pineto A partire Dalle 20 e 30 L'evento Organizzato dall'associazione Le vie dell'arte In collaborazione Con l'associazione Commercianti di Pineto Coinvolgerà tutta Pineto Partendo dalla zona Antistante Villa Filiani Per dirigersi Verso il quartiere Corfu Sfilando poi Verso Villa Ardente Per tornare infine Alla piazza della stazione Dove verrà premiata La maschera Più originale Domani a Montore Alvomano Sarà inaugurata La mostra Del fotografo Teramano Maurizio Anselmi Dedicata ai paesaggi Dell'anima Vediamo Souls Landscape La mostra di Maurizio Anselmi Che potrà essere visitata Dal 27 luglio A Montore Alvomano Presso la sala Riunioni del Chiostro Degli Zoccolanti Che mostra hai Maurizio? Ma è una Mostra di paesaggio Un paesaggio Però Un paesaggio dell'anima Cioè Un paesaggio Non facilmente Riconoscibile Un mio rapporto Con il territorio Immagini realizzate Per la maggior parte All'interno Dell'area proprietà Del Parco Nazionale Del Gran Sasso Monti della Laga E sono Immagini Che raccontano Il mio rapporto Con questo paesaggio Non più Un paesaggio Rappresentativo Descrittivo Ma un paesaggio interiore Quindi una lettura Della visione Estremamente personale E particolare La realizzazione Del catalogo Che catalogo? Allora Sarà una Produzione Nacarte Sarà una Produzione A tiratura limitata Cioè Avrà proprio Il marchio Tiratura limitata Nel senso che I cataloghi Anche quelli Di immagini Di paesaggio Ce ne sono tantissimi Rimangono Non lo so Nelle librerie Nascoste Questo diventerà Un oggetto Cioè Avrà un particolare Formato Particolari copertine Solo 300 copie Di cui 100 copie Con una riproduzione Originale Della fotografia Di copertina Su carta fotografica Che alla fine Una persona Potrà strappare Per incorniciarsela Perché visto che Si fanno le tirature Delle incisioni Non si possa fare Una tiratura Di magnifica fotografia Quindi ognuno Se la potrà staccare Riprenderla Oppure Cosa che io consiglio Tenerla lì dentro Come un pezzo unico E poggiarlo sul tavolo Sarà un opera Oggetto A Castilenti Un appuntamento Dedicato all'operetta Sarà l'occasione Per riscoprire Il convento Dei frati minori Di Santa Maria Monte Oliveto Il servizio A Castilenti Una serata All'insegna Dell'operetta Il 27 luglio Alle 18 Infatti Castellarte Presenta Gianni Schicchi Opera in un atto Di Giacomo Puccini Libretto di Giovacchino Forzano Un evento Molto importante Da non perdere A Castilenti Sindaco Si è vero Da non perdere Assolutamente Perché è il rilancio Del nostro convento Noi a Castilenti Abbiamo un convento Dei frati minori Restaurato Una quindicina di anni fa Però di fatto Utilizzato pochissimo E sicuramente La location Più adatta Per un evento Del genere Un'opera In un convento antico Tra l'altro Poi L'opera Gianni Schicchi È ambientata In un convento Parla di una Eredità contesa E tra l'altro Poi il personaggio Gianni Schicchi È stato messo Da tanti elighieri Nella Divina Commedia L'Inferno È un'opera Da non perdere Assolutamente Sarà divertente Assistere Quindi non solo Per l'opera in sé Ma anche Per la location Suggestiva Che merita Sì Senz'altro Stiamo provando A rilanciarla Questa struttura E questo è un esperimento Che facciamo Ecco perché Aspettiamo numerosi Tutti i nostri concittadini E tutti quelli Che poi vorranno Partecipare Assistere a questo evento Questo probabilmente È uno dei numerosi Eventi che proporrà Castilenti Per quest'estate Effettivamente sì Il calendario È molto fitto E abbiamo fatto Non poca fatica A inserire Questo Quest'ennesimo evento Però non potevamo Non inserirlo In collaborazione Con l'organizzazione Di Castellarte Che ci sta dando Una grande mano E un grande aiuto Abbiamo approfittato subito Dell'invito Che ci è stato fatto Abbiamo detto Ok Ritaglieremo Anche Una data Per questo evento Il Grido Dei Monti Della Laga È un'associazione Che trovando fondi Tra i privati Ha restaurato La chiesetta Di Serra Un borgo abbandonato Del comune Di Rocca Santa Maria Domani La festa Vediamo L'ingegner Goffredo Rotili Fa parte Dell'associazione Il Grido Dei Monti Della Laga Questa associazione Ha recuperato La chiesa Dell'ascensione Di Serra Già l'anno scorso C'è stata una festa Perché è stato rifatto Il tetto Insomma è stata Ridata dignità A questa chiesa E quest'anno Sono proseguiti i lavori E domenica c'è la festa Quest'anno abbiamo fatto Gli invissi Abbiamo ripulito Tutti gli interni Non abbiamo ancora Fatti gli indoneci Abbiamo tanti quadri Del pittore Tomarelli Che ci ha regalati Che esporremo E quest'anno Ci sarà anche Un concerto Nella chiesa Di un nostro Ragazzo Divenuto Un grande chitarista Internazionale Si chiama Reginelli Andrea E con un'argentina La sua compagna Farà un concerto Alle 16.30 All'interno Della chiesa La festa Parte dal mattino Parte dal mattino Perché noi Praticamente E' una Nemmeno una festa E' una riunione Dove Tutti questi amici miei Rappresentanti Semplici Come me Del grido De Monte Della lagge Senza cariche Si direttano A fare A cucinare Dei piatti tipici E a coinvolgere Tutti come interpreti Non come spettatori Chiunque interviene Perché facciamo lavorare Ci facciamo fare Delle offerte Per continuare Se lo vogliono fare Per la chiesa Possono partecipare tutti O solo Chi ha affinità con i briganti Possono partecipare tutti Per carità E sono particolarmente graditi I curiosi Che verranno là fuori Perché E' una specie Di Semplice Riscossa Di una montagna Che sta Per essere abbandonata Completamente E che non vuole morire Però E che non vuole morire E quindi Questo perciò E' un grido Dei Monti Della lagge Perché Speriamo Veramente Che torni a crescere E a rivivere Numeri da record Per la sagra Del calzone Di Scapriano Di Teramo Che si concluderà Domani sera Con il concerto Di Vittorio Il Fenomeno Oltre 20.000 Presenze In una settimana Sentiamo Anche quest'anno La sagra Del calzone Di Scapriano Si è rivelata Un successo Ormai lo possiamo dire Siamo a sabato Solo due serate Da consumare Quella di stasera E quella di domani Domenica Presidente Allora Il successo E' dovuto a cosa? A mio avviso Il successo E' dovuto Che noi Diciamo In questi anni Abbiamo creduto Nella qualità Nel prezzo Del prodotto E Nello spettacolo Un mix di cose E poi la cosa Più grossa E' il ringraziamento Che va Ai nostri Concittadini Teramani Teramani Che hanno Contribuito E I premiano Venendo in massa Venendo in massa E quella è la nostra Soddisfazione Che con il loro calore Apprezzano Il nostro sacrificio Che facciamo annualmente E' possibile stabilire Quanti ne arrivano A Scapriano All'incirca Siamo Sui 25 mila Persone In una settimana Sono tantissime Sono tantissime Quest'anno Penso che Dovremmo arrivare All'incirca Tipo l'anno scorso Sui 25 mila Le ultime due serate Diamo le coordinate giuste Sabato sera Sabato sera Abbiamo Due gruppi Che Ci sarà La notte Della Taranta E domenica C'è il gran finale Con Vittorio Il Fenomeno Dove Speriamo che il tempo Ci assiste E vi aspettiamo Tutti A Scapriano E poi Presidente Si pensa subito All'edizione L'anno prossimo Già Già In gandiere Diciamo La prossima edizione Quindi Già stiamo lavorando Per l'anno prossimo E adesso Prima della pagina Sportiva Andiamo a scoprire insieme Le previsioni del tempo Per la giornata Di domani Con Meteotermo.it Previsioni per domani In Abruzzo Al mattino coperto Per nubi alte E stratificate Con deboli piogge Sulle aree collinarie E montane Moderatamente nuvoloso Sulle aree litoranee Nel pomeriggio variabile Con deboli rovesci di pioggia Sulle aree appenniniche E moderatamente nuvoloso Sulle aree costiere Tra sera e notte Variabile Con deboli rovesci di pioggia Sulle zone interne E sui rilievi Sereno sulle zone marittime Temperatura in lieve Diminuzione Massime compresse Tra 23 e 26 gradi Nelle conche Aquilane e Marsicane Tra 26 e 29 gradi Sulle pianure adriatiche Venti deboli Settentrionali Mare calmo O quasi calmo In provincia di Teromo Al mattino coperto Per nubi alte E stratificate Con deboli piogge Sulle aree collinarie E montane Variabile Sulle aree litorane Nel pomeriggio Variabile Con deboli rovesci di pioggia Sulle aree appenniniche Variabile Sulle aree costiere Tra sera e notte Variabile Con deboli rovesci di pioggia Lungo la dorsale Poco nuvoloso Sulle aree adriatiche Temperature in diminuzione Massime comprese Tra 26 e 29 gradi Nelle pianure Dell'entroterra Tra 25 e 28 gradi Sulle coste Venti deboli Settentrionali Mare calmo O quasi calmo Apriamo il nostro Tg Sport Con il calcio Con il teramo Molto attivo Sul mercato Il teramo che ha raggiunto L'accordo con l'attaccante Bonaiuto E con il portiere Tonti Manca solo l'ufficialità Che arriverà Al rientro del teramo Dal ritiro di Folgari Da lunedì prossimo Cristian Bonaiuto È un attaccante di 22 anni Ex Padova E Benevento Il portiere Alessandro Tonti Anche gli 22 anni Arriva dal Forlì Intanto In vista della gara di domani Contro il Torino Da valutare le condizioni Del centrocampista Amadio Dopo la leggera distorsione Accusata Durante l'allenamento Di ieri Oggi Nella doppia seduta Di allenamento A Malè Lavoro a parte Per Lapadula Speranza E Diachite E lo dicevamo prima Domani pomeriggio Il teramo Chiuderà la piacevole Esperienza In Trentino Da Folgari Dai Biancorossi Raggiungeranno Riscone di Brunico In provincia di Bolzano Per affrontare L'ultima amichevole Di questa prima fase Precampionato Contro il Torino Per i Granata Quello contro i Teramani Sarà già il quinto test Precampionato Visto l'imminente impegno Nell'andata Del preliminare Di Europa League In programma Giovedì 31 luglio Prossimo Il basket Dopo i due colpi Di mercato Ufficializzati Scusate Abbiamo l'intervista Con Lapadula Stavo andando avanti Con la pallacanestro Con le altre notizie Abbiamo l'intervista Con Lapadula Autore Del gol Nel test Contro il Vicenza Il gol Del 1-1 Lo abbiamo avvicinato Sentiamo Sicuramente Fa piacere Anche se nel gol Voglio ammettere Che c'è stata una mano Anche di Garofalo Sicuramente Ha fatto piacere La prestazione La voglia di far bene Mia ma soprattutto Di tutta la squadra Dobbiamo continuare così A Tammarino C'è poco da dire Perché comunque Parlo nei numeri Invece Cesena ha avuto Una bella occasione Che è la partita La grande Con mister Campedelli E' andato un po' A scemare Quando mi sono Mi sono fatto Il tendine Rotulio Che non sono riuscito A rientrare bene Stessa cosa Mi è successo A Frosinone Che sono arrivato E mi sono fatto L'altro tendine Quindi una barzelletta Però sicuramente Quest'anno sono qua Per fare bene Sicuramente Il prof mi sta facendo Fare un bel lavoro Sto bene fisicamente Sono seguito Ma come tutta la squadra Quindi ci sono Ottimi presupposti Per fare bene Bisogna inculcare La mentalità del mister Che è un'ottima mentalità E poi vedremo Il direttore Mi ha illustrato Molto bene Il progetto Teramo Che comunque Mi parlava Di questo modo di gioco Di andare A rattaccare alti Senza pregiudizi Con tanta personalità E fame Io diciamo che Questi doti qua Sono le mie Doti principali Quindi Mi sono rispecchiato Molto in questo progetto Poi Gioca due punte Cosa che a me Fa molto piacere Mi ritrovo qui a Teramo Per far bene Più seconda che prima Però Mi posso anche adattare A fare la prima E adesso passiamo Al basket Dopo i due colpi Di mercato Ufficializzati Dal Roseto Il centro O'Brien O'Brien E la Janelizze Anche l'altra Abruzzese Di serie A due silver Il Chieti Ufficializza la conferma Dell'ala Beneventana Marco Cardillo Arrivato a Chieti A gennaio A campionato In corso Raccontare per interro La storia del basket Rosetano Impresa difficile Forse impossibile Così come racchiuderla In un solo libro E così ha fatto però Luca Maggetti Giornalista e scrittore Rosetano Con il libro Il cuore del Roseto Tifosi e giocatori Che hanno fatto grande La squadra di basket Del Lido delle Rose Il libro sarà presentato Nell'ambito del 23esimo Trofeo Mini Stars 12esimo Memorial Remo Maggetti All'Arena Quattro Palme Di Roseto Giovedì 31 luglio prossimo Intorno alle 21.45 Nell'intervallo Di una partita amichevole Fra istruttori Del torneo Che serve a raccogliere fondi Per sostenere L'associazione italiana Sclerosi Multipla L'atletica leggera I due portacolori Del settore master Dell'atletica vomano Alessandro Di Clemente E Stefania Capo di casa Hanno vinto rispettivamente Tra gli uomini e le donne La prima edizione In notturna Castelnuovo Del trofeo Tini Giovanni Gara podistica Di 7 km E una manifestazione Per riportare Il pattinaggio Di Pineto Ai fasti degli anni passati E quella Che si terrà Lunedì prossimo Alle 21 Al centro sportivo Gli Oleandri A Pineto E che vedrà La partecipazione Degli atleti Degli atleti Pluri medagliati A livello internazionale Deborah Sbei Andrea Aracu E Anna Lisa Graziosi Bene E' davvero tutto Con questa seconda edizione Del nostro telegiornale Io vi auguro Una buona serata Una buona domenica Vi ringrazio dell'attenzione Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti